Quindi questa è la teoria della terra piatta e so che è difficile spiegarlo in radio, ma cerca di farlo in modo semplice perché si tratta di parlare, come qualcuno dice, da dietro il fumo di una pistola dove credete che la teoria della terra piatta è vera e dopo che avrai affermato questo rapidamente andrò a sottolineare alcune delle cose che hanno portato qui Santos, perché ci sono alcune contraddizioni qui che suggeriscono che la teoria del rotondo è vera, pertanto per favore vuoi dirci perché hai deciso di parlare di questa nuova idea radicale, con molto piacere, la terra è sempre stata piatta in tutte le cosmologie, quelle antiche, l'indottrinamento sagace mondiale da parte dei gesuiti che hanno comandato il mondo con le loro istituzioni, Le gravità e del globo sono ombedue insegnamenti satanici, psicopatici di tutti i tempi e voglio smascherarli, sgonfiarli una volta per tutte. È un abracadabra, il piano del concetto a palla che gira attorno a noi da tanto tempo è stato un argomento per parecchi anni ed ha preso piede per la non compressione della cosmologia. Molte persone indicano Pitagora come il fondatore della palla, ma lui non ha mai insegnato queste cose così ridicole. La ragione di optare per il globo è stata per scegliere un falso idolo e diluderci nel pensare che non c'è alto e basso, così siamo in tutti i posti. Persone in alto ed in basso che volano a migliaia di miglia oraria. È un abracadabra. Ridateci indietro i soldi. Gente, siete all'ingiù in Australia con la farfallina che vi vola accanto. Questo è il motivo per cui mi trovo qui, per spiegare la verità del modello geocentrico, dove sia ora la verità, lo stabilisce la scienza, ma la gravità è uno scherzo. Non è nemmeno una teoria, ma la chiamano teoria. E quando siamo a 93 milioni di miglia dal sole a 67 mila miglia orarie, quando qualsiasi persona intelligente vede con i propri occhi che viviamo su una terra piatta, fondamentalmente le persone che vivono su una palla vanno avanti vaccinando i figli, fanno del male ai propri figli per il proprio detrimento. Guardate, non sono felici, sono miserabili, sono miserabili e noi viaggiamo a 186 milioni di miglia attraverso il cosmo e la stella polare è sempre là. Voglio dire, come hanno fatto? È come un proiettile che vola. Sono come dei dementi che hanno perso la propria abbiglia, sono degli insani che l'adorano il diavolo. Questo globo appalla la gravità, gli insegnamenti di demonia, ci sono le cose da adorare. Un asilo dove instillare l'educazione. Il globo è là, ma non l'hanno ancora provato e non hanno ancora evidenze, ma continuano a raccontarvi che sfrecciamo attorno a migliaia di miglia. E' ridicolo. La verità è che Babbo Natale sta arrivando in città e Babbo Palla è la realtà. No, non è una palla, è la buona terra, non è una palla. Intendo dire che se avete questo elegante pilota, vivete su una palla? Potete andare sopra la più alta montagna, più in alto della più alta montagna, ma non vedrete nessuna curvatura. Potete girarvi attorno a 360 gradi e vedrete un orizzonte piatto, sempre all'altezza dei vostri occhi. E se vi trovate su un jumbo, anche se vi trovate 45.000 piedi sopra la terra piatta, vedrete che non scorcherete curvatura. Ma vedrete un cerchio perfetto, tutto attorno a voi, piatto, nessuna curvatura sotto di voi. Guardate attorno. Che cosa credete che abbiano fatto, se non adorare il diavolo? Il demonio serve se stesso, perché dobbiamo dargli ancora energia. E coloro che servono se stessi, la prima cosa che possono fare è diluirvi, illudervi, per creare la più grande menzogna possibile. E per quanto riguarda i pianeti e il nostro pianeta le stelle, perché la prima domanda che fanno è Perché gli altri pianeti sono rotondi e noi no? Perché questo non è Plutone. Che cosa pensate che abbiano pensato nei cartoni animati di Walt Disney? Plutone, l'hanno realizzato con immagini computerizzate. Il Pluto che vi hanno dato è perché siete un branco di idioti e con i vostri maiali vi hanno illusi, facendovi credere in cose, concetti così ridicoli. Come può essere? È assurdo stare su una palla. Per molti sembra brillante credere di vivere su una bella palla, ma veramente, manca di intelligenza, tutto intorno a voi, per i creduloni, ma pensateci alle cose, entrateci dentro. Tutta questa pseudoscienza è stata progettata per tenervi malati, addormentati, di nome di tutta la legalità è tenervi schiavi, senza sapere chi siete. Qualsiasi cosa facciano quelli che comandano questa palla, offrono loro un po' d'amore e qualche riga. Sembrano ritardati, veramente. Grazie Santos, grazie veramente fratello, stai bene, ciao ciao.